Bene, anzi benissimo la fusione dell'AMA, la società aquilana del trasporto pubblico, con la tua, la società unica regionale dei trasporti. Purché non sia solo un'operazione ragioneristica e di facciata, a sottolinearlo Domenico Fontana, segretario Filt CGL della provincia dell'Aquila, che chiede che la fusione sia l'occasione ad esempio per estendere in tutto il territorio regionale il biglietto unico già esistente nell'area metropolitana di Chieti-Pescara e che offre un indubbio vantaggio economico agli utenti. Ed ancora il potenziamento di tratte oggi sottodimensionate, in primis quella tra l'Aquila e Avezzano. I pendolari attuali e potenziali sono oggi di gran lunga superiori rispetto agli autobus disponibili e alle corse. Noi abbiamo una relazione fortissima tra l'Aquila e l'Avezzano, oggi servita malissimo, con pendolari che rimangono a pieti, senza mezzi e quant'altro. Ma noi oggi vogliamo cogliere l'opportunità delle notizie uscite sulla stampa, e cioè il nuovo materiale rotabile impiegato sulla tratta sul Mona l'Aquila e la notizia della fusione Idama-Intua. Noi crediamo che queste due operazioni vadano messe in relazione per parlare di intermodalità. Noi abbiamo questa caratteristica, abbiamo un territorio vastissimo e un finanziamento del servizio pubblico limitato e mai adeguato nel tempo, né alla realtà né alle percorrenze di l'omerico. Questa operazione di fusione ovviamente ne può darci una mano, ma anche qui se vogliamo sviluppare la politica dei trasporti pubblici dobbiamo avere le stesse condizioni di accesso che questa regione riserva a un parte di questo territorio. Parliamo del biglietto unico, la possibilità quindi di utilizzare più vettori, che siano gomma che siano ferro, con un unico biglietto, con un'estensione temporale adeguata.